La signora Carla Poli, ci piacciono molto le sue idee, il Centro Riciclo Vede Lago dà l'opportunità di poter lavorare con dei materiali che sono riciclati, quindi offrendo anche un notevole risparmio, anziché utilizzare materie prime e vergine. Noi volevamo sapere, ecco, quali sono i suoi clienti per i materiali che lei produce o che rimette in circolo tramite il suo centro? I clienti per quanto riguarda la selezione sono le stesse fabbriche, per esempio con le bottiglie di pieti si fa il pile con i quali si fanno i maglioni, le tuti eccetera, quindi c'è un riciclo in questo senso. Quindi sono tutte le aziende, le industrie che usano normalmente materie prime, in questo caso usano materie prime e seconde perché le costano meno. Per quanto riguarda il granulato che è l'ultima nostra produzione, lì abbiamo gli imprenditori più, le industrie più disparate perché dalle industrie dell'edilizia, quindi manufatti per l'edilizia, alle industrie di plastiche, panchine, arredi da giardino, casseri a perdere in plastica, dissuasori, pallet, ecco, tutti i materiali tra l'altro che sono poi riciclabili e che sono anche incentivati dalla comunità europea perché le industrie utilizzando materie prime e seconde ricevono la certificazione, i cosiddetti certificati verdi che consentono un risparmio sia fiscale sia dal punto di vista energetico. Quindi risparmio a 360 gradi in poche parole. Ecco, io volevo sapere da lei, siccome noi abbiamo saputo che voi siete comunque nel settore della gestione rifiuti fin dagli anni Ottanta, come siete arrivati però e quanta importanza ha rivestito la ricerca, per esempio lo studio, nel vostro arrivare ad una gestione così spinta, così ecologica della questione? Beh, qui ci vuole una passione, insomma, deve essere dentro questa cosa qua, la molla che ha mosso me, nasce da mia nonna che mi ha insegnato, quindi una cultura che si acquisisce, poi la volontà ferria di andare avanti contro tutti, perché nei primi anni Ottanta. Io sono passata anche attraverso la costruzione e gestione di due discariche per conoscere i materiali. Con la provincia di Treviso ho detto, io voglio fare riciclo, però non so cosa va a finire, cosa mi arriva, cosa non mi arriva. E' subito incominciato lo studio perché è fondamentale, assolutamente la ricerca, anche perché ogni 6, 7, 8 mesi cambiano gli imballaggi, cambiano i manufatti, per cui bisogna continuamente ricercare. Poi gli utilizzatori sono sempre diversi, si inventano sempre cose nuove, per cui la ricerca e lo studio c'è sempre dall'inizio alla fine, non si può assolutamente prescindere dallo studio e dalla ricerca. Ecco, sentendo le sue parole mi sembra di sentire l'esortazione di Paul Connett, che è il massimo esperto mondiale dei rifiuti zero, che anche lui è convinto che nello studio, nella ricerca, ci sia il vero segreto del poter andare avanti in maniera virtuosa. A questo proposito le volevo chiedere, dato che lei mi dice che nel centro, ospitate scolaresche di vario ordine e grado, si potrebbe fare qualche cosa anche con le università, in particolare con quegli studenti che si occupano di tematiche ambientali? Guarda, l'altro giorno l'università qui di Roma, la Sapienza, facoltà di architettura, si sono laureati due ragazzi romani, io ero correlatrice perché il professore non sapeva, questa era una novità per lui, quindi hanno fatto due tesi di laurea bellissime che gli insegnanti, i professori hanno detto sono intriganti e che promuoveranno ancora studi e ricerche in questo senso perché anche per l'università di Roma è stata un po' una novità, insomma. Quindi questo è un traguardo, è una base di partenza che penso che per il nuovo impianto di Colleferro e per gli altri che devono assolutamente essere fatti, sia insomma un punto di partenza. Li abbiamo già coinvolti in ricerche che l'impianto farà da subito. Un'ultima domandina, a quante persone da lavoro il suo centro? Sono 62 persone dirette, tutti assunti a tempo indeterminato e senza contare l'indotto che è numerosissimo perché il camion è andata e ritorno, è entrata e uscita, che però in entrata sono circa 80 al giorno, in uscita sono 18 per effetto della compattazione, quindi risparmio anche lì. Vedo che il dato è già aumentato rispetto al vostro sito internet, il che mi fa immenso piacere. La provincia ci ha autorizzato altre 8.000 tonnellate ultimamente, quindi di conseguenza. Perché lì si parlava di 40-50, credo in entrata e 10 in uscita, per cui molto molto bene. Io la ringrazio infinitamente, tanti auguri per il proseguo della sua attività.